Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del volto del ring dove andremo a fare le analisi e a vedere tutti i risultati di Vrestelmania 35. Partiamo con il lunghissimo Kickoff, Tony Nese è diventato il nuovo campione dei pesi leggeri e ha sconfitto al termine di un ottimo match Buddy Murphy. Poi Carmella ha vinto la Battle Royale femminile, una Battle Royale divertente non c'erano dei grossi nomi nel ring, però è stata comunque divertente e ci ha intrattenuto stessa cosa per la Battle Royale per Andre the Giant, Braun Strowman ha vinto non c'erano anche lì grossi nomi, quindi diciamo che ha vinto abbastanza agevolmente ci ha intrattenuto anche questa Battle Royale qui. Poi Cortokin senza Crider sono diventati i nuovi campioni di coppia di Raw sconfiggendo i The Revival al termine di un ottimo match dove i due hanno vinto e finalmente Cortokin ha spezzato la striscia negativa di sconfitte consecutive. Partiamo poi subito con la card principale dell'evento, si inizia col botto, Seth Rollins sconfigge Brock Lesnar e diventa il nuovo campione universale una parte pre-match che si è svolta principalmente all'esterno del ring con Lesnar che ha menato a destra e sinistra Seth Rollins, poi al momento di far partire la campagna dell'inizio match da lì il match è durato un paio di minuti contati e Rollins dopo ben tre carb stomp consecutivi è riuscito a sconfiggere Brock Lesnar e finalmente il titolo universale torna in pianta stabile a Raw ogni settimana, ogni mese, ogni pay per view. Passiamo poi al match in cui AJ Styles ha sconfitto Randy Orton un ottimo match, mi aspettavo un match sotto tono invece mi ha stupito, mi ha saputo divertire mi ha intrattenuto bene, un buon match. Poi gli Usos hanno mantenuto i titoli di coppia di SmackDown sconfiggendo Lesnar Black e Ricochet, Idebar, Rusev e Shinsuke Nakamura che dire, questo match è stato molto frizzante, spumeggiante, tante belle manovre aeree diciamo nella norma, un buon match. Poi Shane McMahon ha sconfitto The Meads in un false count anywhere match questo match mi ha stupito, me l'aspettavo brutto invece è stato molto divertente, molto bello davvero un grande match in stile Shane McMahon con un finale veramente incredibile, rocambolesco Shane vince dopo che The Meads gli aveva fatto un suplex da una piattaforma, adesso non so descriverla bene stavano messi molto in alto, sono precipitati con questo suplex gigantesco solo che Shane che stava subendo il suplex durante la fase di atterraggio è stato abile a spostarsi per atterrare sopra The Meads e a poterlo schienare grande match. Poi le iconiche sono diventate le nuove campionesse femminili di coppia WWE sconfiggendo le campionesse in carica a Bele e Sasha Banks poi Bad Phoenix e Natalia e Nia Jax e Tamina grande vittoria per le due australiane che finalmente vincono i loro primi titoli nel roster principale e finalmente hanno sfoderato una grandissima prestazione le due iconiche sono le seconde campionesse femminili di coppia nella storia poi Kofi Kingston è diventato nuovo campione WWE dopo 11 anni di lunghissima carriera in WWE finalmente ha avuto il suo match per il titolo assoluto e non ha di certo fallito il tentativo ha sconfitto con successo Daniel Bryan al termine di un match che è stato il più lungo di tutto il pay per view parlando di minutaggio totale grande match mi è piaciuto davvero tanto ci ha saputo emozionare e finalmente è tornata la vera cintura da WWE quella seria e autentica di sempre si apre l'era di Kofi Kingston poi Samoa Joe ha sconfitto Rey Mysterio con la cochina Clutch e ha mantenuto il titolo degli Stati Uniti uno squash match durato solo un minuto avete sentito bene un minuto per annientare Rey Mysterio una cosa scioccante non me l'aspettavo incredibile poi Roman Reigns ha sconfitto Drew McIntyre qua diciamo se vogliamo dare una tiratina d'orecchie come è stata gestita la rivalità e anche il match insomma ci sarebbe una tiratina d'orecchie da fare perché insomma il match già la Fyder ha fatto un po' così poi il match veramente ragazzi più noioso di così non si può poi io me l'aspettavo combattuto non c'è stato niente di combattuto cioè proprio era un match fatto tanto per fare diciamo era un match per far so che è brutto da dire però sembrava una sorta di riscaldamento per Roman Reigns dopo comunque i mesi di stop comunque per i gravi motivi di salute che voi sapete e insomma c'era una sensazione come se da quel match più di quel che si è visto non si poteva tirare fuori date le circostanze però comunque in ogni caso apprezziamolo lo stesso ha vinto Roman Reigns dai va bene così ci può stare ogni tanto nella card dopo tanti match belli qualcuno un po' così così poi passiamo al no holds barred match tra Triple H e Batista Triple H che sconfigge Batista Batista chiude così la sua carriera in WWE Triple H rimane confermato come lotatore ovviamente part time e come dirigente un match molto lungo il secondo più lungo della card perché il primo è stato quello di Kofi un match dove purtroppo mi dispiace dirlo però la maggior parte dei minuti li hanno passati più che altro a riposare a prendere fiato piuttosto che a lottare Batista mi dispiace dirlo io ho vissuto i suoi anni d'oro tutta la sua ascesa dai periodi dell'evolution però ragazzi onestamente se avessi avuto la possibilità avrei preferito ricordarlo com'era e non vedrei questo match già quando ho inciampato sulle corde entrando ho pensato mamma mia mi stavo già mettendo le mani in testa purtroppo Batista ha faticato davvero tanto sul ring capisco l'inattività tutto quanto però ragazzi per come era Batista ai vecchi tempi che era un distruttore sul ring è stato per me brutto e sofferente vederlo davvero in difficoltà non era neanche l'ombra di come era prima ma ecco diciamo che ha portato a termine il suo match però con davvero tanta fatica diciamo ha regalato delle emozioni questo match però è andato molto 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 a rilento sicuramente non è stato il miglior match della serie Triple H vs Batista gli altri che hanno disputato sono stati decisamente migliori questo match purtroppo è stato molto lungo ma è stato anche molto lento non dico macchinoso però secondo me certe cose sono state anche improvvisate sul momento perché ho notato che c'erano davvero delle reali difficoltà concrete soprattutto da parte di Batista era proprio visibilmente affaticato mi è dispiaciuto verlo così perché io sono sempre stato un suo grande fan lo sarò sempre però vederlo così mi si piangeva il cuore ragazzi mi è dispiaciuto comunque Triple H ha vinto poi Baron Corbin ha sconfitto Kurt Angle che si è ritirato ufficialmente ieri è stato il suo match da dio un match abbastanza corto Baron Corbin ha vinto Kurt Angle ha fatto il possibile però ragazzi gli anni passano non sarebbe neanche stato corretto vedere Kurt Angle vincere con una vittoria magari regalata solo perché si stava ritirando è anche giusto poi come ci insegna la storia nel wrestling che chi si ritira solitamente debba perdere il suo ultimo match altrimenti a chi lo lascia il testimone se vince è giusto che chi si ritira perda così se ne va via con onore perché comunque si viene sconfitti ma con onore e poi si lascia comunque il passaggio di consegne il testimone a chi verrà successivamente non sarebbe stato credibile vedere Baron Corbin nel suo fiore degli anni nei momenti comunque di massimo un spicco della sua carriera al massimo della forma avverlo perdere non sarebbe stato molto credibile quindi è anche giusto così ragazzi dobbiamo anche accettarla come cosa comunque match di ritiro che comunque è andato bene Corsangle ha fatto il possibile ha fatto tutto il suo repertorio di mosse storiche quindi ragazzi va bene così poi Finn Balor nei panni del demone è tornato campione intercontinentale sconfiggendo Bobby Lashley al termine di un match breve poco emozionante però ragazzi quando c'è il demone i match sono brevi perché il demone è troppo forte come una sorta di Brock Lesnar in versione demone quindi proprio non c'era modo di frenare Finn Balor grande vittoria passiamo poi al main event che purtroppo ragazzi ha rovinato diciamo la facciata del pay per view perché se il pay per view era fatto più di alti grossi alti che bassi questo main event ragazzi veramente non dico cosa mi è sceso a terra però provate a immaginarlo mi sono scese delle cose a terra Bocci a non finire ragazzi Bocci a non finire a non finire match lungo ha avuto dei buoni momenti però ragazzi sono stati dei momenti in cui veramente era noioso Bocci su Bocci poi anche il finale molto controverso comunque ve lo dico da subito Becky Lynch ha vinto è diventata doppia campionessa doppia perché c'erano in palio entrambi i titoli femminili sia quello di Raw che quello di SmackDown ha vinto adesso è lei la campionessa indiscussa però la vittoria è arrivata con una sorta di roll up alquanto strano su Ronda Rousey Charlotte Flair era l'altra partecipante che per in quel momento era fuori dal ring e questo roll up di Becky ai danni di Ronda è stato molto particolare perché durante il roll up Ronda non aveva le spalle del tutto al tappeto e poi non so ha avuto la percezione come se non fosse stato questo il reale finale del match come se ci sarebbe dovuto essere qualcosa di più però è andata così non so come descriverlo poi andate a rivedervelo sul WWE Network il match ne vale la pena perché è particolare questo finale qua perché avreste le mine assolutamente si chiudono le faide qua invece sembra quasi che sia un pretesto per continuare oppure semplicemente è stato un pasticcio generale che ha frettato la conclusione del match che magari non doveva concludersi così perché solitamente in questi match ci sono vari colpi di scena però qua non ce ne sono stati tanti c'è stato questo finale così boh strano a termine di un match con tanti bocci non lo so ho avuto l'impressione che questo match sia stato preparato molto male e forse magari più di questo non si poteva fare mi aspettavo molto di più come main event per come ci hanno scartavetrato le cosiddette pensavo che sarebbe dovuto essere non dico il match dell'anno però uno dei migliori invece mi ha deluso tanto però comunque in generale la card termina qua il PPV termina qua il video termina qua l'evento in generale comunque mi è piaciuto magari se avessero fatto un main event migliore gli avrei dato anche un 9 e mezzo barra 10 però comunque l'evento in generale si merita un 9 voto 9 pieno per questa freestylemania che per me è stata una delle migliori degli ultimi 4 o 5 anni veramente questa freestylemania mi è piaciuta davvero tanto mi ha saputo emozionare per grandissime parti davvero mi è piaciuta tanto tanto anche senza l'Undertaker ragazzi perché mi pare che per la prima volta dopo 17-18 anni consecutivi che l'Undertaker non c'è stato a freestylemania però c'è stato John Cena che è tornato nei vecchi panni del Doctor of Taganomics e ha menato Elias durante il suo concerto questo è stato uno dei momenti più belli proprio per ricordare i vecchi fasti di un tempo il John Cena in versione rap con la catena al collo vi ricordate? poi soprattutto qua in Italia ai tempi di SmackDown su Italia 1 abbiamo conosciuto così John Cena è stato un grande ritorno peccato per l'Undertaker che non c'è stato però ragazzi secondo me ci sono anche questioni extra ring dietro a questa scelta qua andatevele a cercare io non posso dirle in questo video però secondo me forse è anche stato giusto così che non fosse stato inserito nella card mi dispiace dirlo però ci sono certe vicende extra ring che alle volte condizionano è andata così comunque l'evento in generale mi è piaciuto veramente davvero tanto 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 bellissima Vestilemania lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale cercatemi se volete per qualsiasi cosa sui profili social Instagram e Twitter il volto del ring official scritto tutto minuscolo e tutto attaccato il volto del ring official ci vediamo al prossimo video ciao ciao